Ecco, così, concentratevi, chiudete gli occhi, non abbiate paura delle onde magnetiche che vi mando. Le sentite correre dentro di voi? Avete caldo, non è vero? Stanno facendo il loro effetto. Sentite quanto sono benefiche per i vostri nervi. Lasciatevi andare, abbandonatevi, preparatevi senza resistere se volete che il beneficio sia completo. Liberatevi, parlatevi. La malattia esce sempre dalla bocca. Abbiate fiducia, non siate impazienti, lui verrà e romperà il cerchio che vi tiene prigionieri. Non dovete vergognarvi delle brutte cose che vi tormentano. Prima viene il verbo e poi la farfalla. Lui vi toccherà con le sue mani e purificherà le vostre scorie. Cancellerà i vostri dolori e le vostre preoccupazioni. Uscirete da qui completamente guariti, nel corpo e nello spirito. Vi alzerete e camminerete, ma attenti, lui può venire da un momento all'altro. Siate preparati a riceverlo. Voi non lo vedrete perché gli occhi dei ciechi non guardano di fuori ma di dentro, ma lo sentirete nei vostri corpi, come l'ho sentito io quando l'ho concepito e generato. Vero sangue del mio sangue che vi offro per farvi guarire da tutti i vostri mali. Mio figlio. Via. Via. La mano. Voglio che torni, voglio che torni, voglio che torni. No, no, così può. No, no, no. Via. Tirati via. Via. Che voglio. Dove sei? Deve cambiare tutto. Non posso continuare. Adesso. Subito. No, basta, basta. Un po' di pace, prego. Un po' di pace. Non farmi più male. Paura. Tanta paura. Quando torno un viaggio. I bambini a casa. No, no, no. Quella malita cosa, la ragazzina. No, la ragazzina no. No, no. Maria, non ti sento più. Non lasciarmi, ho tanta paura. Così voglio, così voglio. Non ce la faccio pagare. Non ce la farò mai. Non posso così. Non rientro nelle spese. non ci rientrerò mai. Prenderò il treno. Ecco, sì. Sì, il treno. So tante barzellette, io tante, tante. Il treno, sì. Il treno. Tutum, tutum. 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 La luce. Ecco la luce. L'occhio. Ma, 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 ma.